via del fratello allora via del fratello c'erano sette sette storie tanto 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 adesso 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 le hanno aperte non so quante adesso le conto ecco questa qui questa qui c'era birreria del fratello e lo sono due questo è il cacere minorino ok allora c'è un'altra l'hanno aperta adesso perché non ce n'è stata allora allora questo è il bar piratello ce ne tre l'altro spazio non ce n'è stato quattro vi riuscisco zapp zapp e non ce n'è stato se la stiamo qua stiamo facendo stiamo facendo stiamo facendo tx 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 l'unico l'unico le bad lo l'altro vi il vi 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 6 luci fiduci della merda di quanto c'è stù 8 luci 10 luci piadino a Pratoglio altra biore via no, altra biore via 12 Altra bioneria 13 Cocktail bath 14 Capri cavoli 15 Procitoria bioneria 16 Osteria con cucina 17 Mi hanno preso l'ortaggio 18 Osteria del bar 19 Questa è un po' Questa è una di Ria ma non è Il frattano Lì è rilieo di sviluppo ecco questo qui è proprio carino questo qui è un picciatore che quando ho accennato io non c'era non c'era no? questa qui birroteca di qua 21 ingegno carcenteria 22 22 22 22 faccio un aeronauta forse è chiusa per covid 23 altra birrilla 24 20 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 un giorno poi ve lo dico 30 villarie in un chilometro e mezzo due